un saluto a tutti adesso si un gioco con quattro monete quattro monete e che cosa c'è lui e quattro bistecche che sono quattro carte ogni carta copre la sua moneta adesso riuniamo tutte le monete sotto un'unica carta quindi la prima seconda così anche l'ultima adesso la cosa difficile guarigirli senza che nessuno veda ristabilita le cose come erano all'inizio ciao a tutti grazie marcello grazie